Eccoci ritornati ancora in diretta. Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Il tema della settimana di preghiera dell'unità dei cristiani che comincia oggi come ogni anno dal 18 al 25 gennaio e questa mattina all'inizio di questa settimana mentre vediamo la schermata grafica che ci riassume appunto il tema della settimana di preghiera vogliamo ringraziare il professor Brunetto Salvarani che è in collegamento per noi e con noi e parleremo di questo tema così bello dell'ecumenismo un tema purtroppo troppo sottovalutato. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi dell'occasione. Allora professore come dicevamo questa settimana di preghiera è un'occasione per tornare a riflettere sui temi dell'ecumenismo lo facciamo purtroppo solo una volta all'anno comunque in occasione di qualche evento particolare ma è un cammino che ci aiuta ad andare verso l'unità anche per implorare il dono della pace. Allora vorrei partire chiedendole quali sfide quest'anno, questa settimana ci pone questo ottavario di preghiera e più in generale direi il cammino ecumenico. Sono tante le sfide, innanzitutto prendo sul serio la sua considerazione, nel senso che lo facciamo solo una volta all'anno e non va bene perché l'unità dei cristiani è innanzitutto ciò che chiede Gesù in maniera chiara durante l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, ut unum sint viene ripetuto continuamente ma in particolare è il messaggio positivo che possiamo rivolgere al mondo finché siamo divisi purtroppo siamo decisamente molto meno credibili quindi il primo impegno io direi dovrebbe essere quello di far sì che questa settimana non rimanga un unicum nel corso dell'anno e che lo stile ecumenico, l'atteggiamento ecumenico impregni la nostra pastorale, il nostro sinodo visto che siamo nel cammino sinodale e i nostri atteggiamenti nei confronti degli altri. Questa è una prima considerazione. La seconda io direi l'importanza soprattutto in questo momento in questo momento di guerre e purtroppo di guerre anche tra paesi che si dicono cristiani pensiamo al caso dell'Ucraina e della Russia evidentemente quello macroscopico ma non è l'unico. Allora è molto molto bello che quest'anno non solo si rifletta su questo versetto di Luca 10-27 che è il cuore del messaggio di Gesù, del messaggio evangelico amerai il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso ma che l'intenzione di preghiera e la meditazione sia stata offerta dal Burkina Faso che è un paese africano poverissimo e che purtroppo oggi sta conoscendo una crisi dovuta alla recrudescenza del terrorismo mentre invece aveva una storia bella di comunione direi di dialogo forte tra le comunità cristiane, le comunità islamiche e le comunità delle religioni tradizionali io mi permetto di sottolinearlo perché conosco il paese, sono stato là e ho avuto modo di entrare in contatto con questa bellissima realtà. Oggi la situazione sta cambiando purtroppo in peggio. Professore quest'anno ricorre anche tra le altre cose il sessantesimo anniversario del viaggio di San Paolo VI in Terra Santa come ha scritto Papa Francesco quel viaggio è stato un passo avanti fondamentale per abbattere la barriera dell'incomprensione, della diffidenza e persino dell'ostilità che esisteva da quasi un millennio. Allora che cosa rimane oggi e quali frutti ha portato quell'abbraccio storico di Montini con il patriarca Tenagora? Sì innanzitutto diciamo che davvero è stato storico perché purtroppo l'antecedente era il 1054 cioè la rottura a Costantinopoli tra il cristianesimo d'oriente e quello d'occidente quindi che ci fosse un senso della storia molto forte in Montini è abbastanza evidente. Mi sembra molto significativo il fatto che l'abbraccio sia stato a Gerusalemme che questo è il messaggio che dovremmo far passare che la nostra comunione tra cristiani passa attraverso il riconoscimento comune delle comune radici ebraiche e quindi non è un caso che sia accaduto lì, anzi mi sembra importante e significativo in questo momento sono bloccato ma continuo a parlare e quindi il fatto di ricordarlo oggi mentre abbiamo bisogno di più ecumenismo e in particolare i nostri rapporti col mondo ortodosso vanno rinsaldati e noi dovremmo fare la parte di chi cerca di portare unità in un mondo ortodosso che oggi come sappiamo è molto frammentato e molto diviso in particolare tra il cristianesimo diciamo slavo e quello greco e il patriarca ecumenico di Costantinopoli da una parte e il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie dall'altra noi nel nostro piccolo dovremmo fare gli intercessori coloro che favoriscono la riconciliazione certo oggi non è facile immaginarlo però il nostro compito è di tirare avanti nonostante tutto Lei professore ha giustamente citato le nostre comuni radici ebraiche ecco Giovanni Paolo II ha coniato un'espressione geniale nella sua semplicità potremmo dire definendoli i nostri fratelli maggiori appunto ieri abbiamo celebrato la giornata del dialogo appunto tra cattolici ed ebrei c'era un tema molto bello molto interessante mutuato da un passaggio del profeta Ezechiele oltre le passioni tristi credenti che contagiano speranza allora io le chiederei quale speranza dobbiamo attenderci dal dialogo e con i nostri fratelli maggiori ma anche ovviamente con i nostri fratelli di altre confessioni cristiane E' quella che dice San Paolo Spes contra Spem cioè la speranza nonostante tutto perché non possiamo nasconderci che anche nei confronti del mondo ebraico oggi ci sono delle difficoltà e in particolare dopo quel terribile e maledetto 7 ottobre 2023 la situazione si è enormemente complicata e qualsiasi parola che noi cristiani diciamo sugli ebrei e agli ebrei da quel giorno è diventata più difficile più complessa certamente la speranza è quella che deve muoverci sempre sapendo che qualsiasi dialogo ecumenico deve avere alla base il riconoscimento non solo delle radici ebraiche ma anche qualcosa di più il Cardinal Martini diceva bisogna amare Israele non basta un generico anti-antisemitismo per noi e purtroppo dobbiamo riconoscere che nella storia da parte nostra di cristiani c'è stato spesso un atteggiamento qualcuno l'ha definito l'insegnamento del disprezzo un atteggiamento molto negativo nei confronti degli ebrei sappiamo che le cose sono cambiate danno molti anni dal 65 dalla nostra età della dichiarazione del concilio bisogna continuare su questa strada e investire moltissimo in questa direzione diceva prima professore sperare nonostante tutto e ha citato quel maledetto 7 ottobre da lì in poi le cose davvero si sono complicate in maniera esponenziale e quale impatto sta avendo questo conflitto anche sul dialogo tra le comunità religiose? Non c'è dubbio sta avendo un impatto negativo ma non può che essere così la guerra ha comunque un impatto sempre negativo qui c'è qualcosa di più specifico perché c'è una percezione da parte del mondo ebraico quasi di un tradimento da parte nostra come se noi dovessimo come dire stare da una parte contro l'altra io dico queste cose con molta delicatezza e ripeto sapendo che qualsiasi parola che diciamo oggi va misurata e va ponderata però noi non possiamo che fare riprendo ancora l'intenzione del Cardinal Martini quando andò proprio a Gerusalemme nel 2002 alla fine del suo ministero a Milano quando disse cercherò di fare da intercessore perché il nostro compito è quello di dare voce al dolore altrui e noi oggi vediamo quanto dolore c'è da una parte e quanto dolore c'è dall'altra però finché non riconosceremo tutti anche la dignità del dolore dell'altro io temo che non riusciremo a uscire da questo che è un impasse non possiamo negarlo allora professore da parte nostra ci sarà l'impegno sicuramente di non chiudere il discorso e il capitolo ecumenico e del dialogo in questa settimana perché lo abbiamo capito non è solamente una questione religiosa ma è una questione che interessa interessa davvero tutti a 360 gradi anche alla luce delle notizie che riceviamo ogni giorno dalla terra di Gesù e da altre parti del mondo lei ha ricordato anche giustamente il Burkina Faso che sono diciamo gli ideatori di questa traccia di preghiera per questa settimana noi nel frattempo però la ringraziamo per essere stato con noi e per averci davvero offerto uno spaccato molto interessante su questa settimana che da oggi comincia e che terminerà il prossimo 25 grazie professore grazie a voi buon lavoro e buona settimana grazie ringraziamo il professor Brunetto Salvarani noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti